Questo è un classico autovelox che viene installato su treppiedi, quindi su tripode e ovviamente riguarda una postazione mobile di cui è dotata di una telecamera che rilieva gli scatti fotografici del veicolo che infrange il limite di velocità, di un display per poter controllare al momento il veicolo che ha ovviamente superato il limite della velocità e ovviamente di questa barra che praticamente è poi il centro principale di tutta la strumentazione. E legge la stretta anti-autovelox. Per installarli ai sindaci servirà il via libera del prefetto. In Puglia e Basilicata sono posizionati su numerose strade in postazione fissa e fino a ora utilizzati di frequente anche in postazione mobile. Ma cosa cambierà per le forze di polizia? Innanzitutto nei centri arbitrati, quindi nei centri urbani con velocità in cui il limite è 50 km orari, praticamente non sarà più possibile azionare tali strumenti. Tra l'altro per quanto riguarda le classificazioni delle strade, ovviamente non si potrà scendere nei rilievi a una velocità inferiore ai 20 km. Faccio un esempio, su una strada extraurbana principale cui limite è di 110 km orari, il limite massimo rilevabile potrà scendere solo sotto 20 km orari, ovvero 90 km orari. Come cambia il vostro lavoro di polizia locale, ovvero troveremo ancora le vostre pattuglie ai bordi della strada con gli strumenti mobili? Per gli strumenti mobili sì, ovviamente cambia poco, ovviamente la cosa importante è la segnalazione delle apparecchiature, quindi ben evidenti con segnalazioni almeno un chilometro prima del posizionamento dello strumento e ovviamente sempre la presenza degli agenti accertatori. Per tutti i comuni stop all'utilizzo degli autovelox per fare casse? Da parte nostra di agenti di polizia stradale la consideriamo diversamente perché comunque è un ottimo deterrente per ridurre la velocità.